Sant'Arsenio e Sala Consilina, la lotta per il distretto sanitario 72 vede entrambi i comuni in lizza per ospitarne gli uffici amministrativi nel giro di una settimana. Stamane infatti il primo cittadino Nicola Pica ha effettuato un sopralluogo con il direttore sanitario del distretto Lucchetti all'ospedale di Sant'Arsenio. Già il geometra incaricato ha dato mandato per eseguire i lavori necessari che partiranno lunedì. Si tratta di ritinteggiare, di predisporre le linee telefoniche, cose da risolvere in pochi giorni perché l'Asla ha chiesto di essere operativi nel giro di una settimana. L'Asla ha deciso in piena autonomia, ci tiene a precisare il sindaco Nicola Pica. Non è stato un fatto politico come si è detto in queste ore e non c'è stata alcuna ingerenza. Il direttore Lucchetti ha scelto in completa autonomia applicando la norma sulla spending review. Noi abbiamo salutato la decisione con entusiasmo perché finalmente dopo due anni viene nuovamente riempito e reimpiegato all'ospedale di Sant'Arsenio. Non ci saranno poi i disagi per i cittadini salesi perché i servizi e gli ambulatori resteranno a sala e solo un passaggio di uffici amministrativi. Nel frattempo però anche a Sala Consilina sono in corso i lavori di adeguamento della struttura di via Pozzillo che già ospita tali uffici. Vista la decisione dei proprietari dell'immobile di non rinnovare il contratto per quanto riguarda la parte antistante dello stabile, si sta lavorando per spostare parte degli uffici nel retro che resta a disposizione del Comune visto l'accordo siglato con la proprietà. Avevamo fatto un accordo con l'Asla, detto il vice sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano, dal 1 gennaio 2014 ci saremo accollati noi tutte le spese e così è stato. Ammesso e non concesso che ci fossero state delle mancanze nel pagamento dei fitti è un problema nostro e non dell'Asla, non capisco dunque perché tutta questa fretta nel trasferimento, avendo atti certi e protocollati. Per Cartolano insomma c'è qualcosa che non va, forse proprio quei motivi politici esclusi dal sindaco di Sant'Arsenio, a Sala dove le amministrative sono prossime e non vengono messe in secondo piano, tanto che Cartolano annuncia vedremo l'Asla che cosa vorrà fare, noi siamo pronti tra una settimana come promesso, ma se necessario non escludiamo azioni giudiziarie a tutela del distretto. Intanto sabato pomeriggio alle 16 è stata convocata la conferenza dei sindaci del distretto a Sassano.